La festa di San Ginesio e soprattutto il lancio della Mongolfiera ritorna ai vecchi santi, diciamo così. Esatto, in questo caso direi è la edizione più adatta, ritorna in grande stile, quest'anno come già era stato sperimentato lo scorso anno abbiamo fatto praticamente una settimana di eventi grazie all'impegno della Proloco e dopo il Covid per la prima volta torna in piazza anche il lancio della Mongolfiera dopo la sospensione del 2020 e lo spostamento al campo sportivo dell'anno scorso. Bambini felici, tutto pieno, palloncini, la Lego addirittura. La Lego, Star Wars, quindi insomma tante novità importanti che hanno contribuito a arricchire la festa e il colpo d'occhio su una piazza così colorata è unico. Grazie a tutti.